Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La fase calda inizia ad entrare nel vivo su buona parte dell'Italia a causa dell'imponente alta pressione nordafricana che interesserà senza scrupoli tutto il Mediterraneo. Al sud, specie sulle regioni adriatiche, una debolissima circolazione orientale garantirà oggi un temporaneo stallo del caldo, con eccessi termici solo nelle aree più interne. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 1 agosto. Al primo mattino possibili annuvolamenti o nubi basse lungo le coste più orientali del Salento. Durante le ore pomeridiane deboli passaggi nuvolosi solo sui Monti Lucani, altrove invece continuerà a splendere il sole e i cieli rimarranno sereni fino a sera. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, più fresche lungo le coste adriatiche e nel primo introterra, ma con elevati tassi di umidità soprattutto durante le ore di buio e al mattino. Nelle zone interne invece sarà presente il caldo torrido, specie sul tavoliere materano e arco ionico, con punte fino a 37-38 gradi. Venti più tessi dai quadranti settentrionali sui settori adriatici e sul Salento, altrove ventilazione più debole. E per quanto riguarda i mari, poco mosso l'Adriatico e il canale d'Otranto, calmo invece lo Ionio e il Tirreno. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore, Trono Cosimo, per averci inviato questa magnifica foto, il ritratto di un tramonto mozzafiato col sole che si inabissa alle spalle di Porto Cesareo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.